omaggio in eterno in un paese più lontano come ragazza spensierata avevo tanta voglia di lettura perfino ho superato la censura un libro magico io presi tra le mani un autore che si chiama dante visionario e illuminato cerca la retta via verso l'alto con degli antipodi perfetti tra il paradiso e l'inferno lui concepisce il purgatorio ove il fuoco dolce che affina purifica la nostra anima divina virgilio il poeta prediletto lo guida attraverso i due regni della dannazione e della penitenza aprendogli la via verso la purezza più su nel paradiso e beatrice che accompagna il poeta nella profonda mistica realtà vicino a dio dove la parola non ha più corso dante alighieri passa oltre il tempo fino all'eternità